La Puglia è uno dei set più ambiti per i grandi appuntamenti organizzati dalle mesone internazionali della moda. Dopo la cruise Cosmogonie di Gucci a Castel del Monte nel maggio dello scorso anno e quella di Dior a Lecce nel luglio del 2020 in piena pandemia, adesso sarà la volta dei siciliani Domenico Dolce e Stefano Gabbana da prodare nella nostra regione con la loro collezione alta Sartoria. La mesone ha infatti scelto la Valle d'Itria per presentare le collezioni di alta moda. Da venerdì prossimo 7 luglio all'11 i luoghi più caratteristici dell'altopiano che si estende tra le province di Bari, Brindisi e Taranto faranno da cornice alle creazioni dei due artisti siciliani. Le voci che si corrono in questo rush filale parlano di una prima sfilata ad Alberobello il 9 di luglio e il 10 luglio ad Ostuni. Per la casa di moda non si tratterà di un debutto in Puglia, in passato Dolce e Gabbana aveva scelto i vicoli di Bari Vecchia e il lungomare per la campagna pubblicitaria nel 2017. Tutto al momento però resta top secret ma di sicuro c'è che la mesone vorrà incrociare le proprie collezioni con le eccellenze artigianali e manifatturiere della Valle come già fatto in occasione di altri progetti simili. I due appuntamenti pugliesi caratterizzeranno la nuova tappa dell'ideale Grand Tour d'Italia che Dolce e Gabbana ha intrapreso dal 2012, anno della presentazione della prima collezione alta moda a Taormina. E ovviamente non mancheranno i volti che hanno reso grande il brand come la modella Bianca Balti o la New Entry Annalisa fresca di nozze proprio con un abito dei due designer.